Estensione della caccia al cinghiale anche nelle aree non vocate, ovvero nelle colline, nelle aree costiere, anche mediante la braccata, ovvero con battute di caccia che utilizzano mute di cani. Il provvedimento arriverà in Consiglio regionale la prossima settimana ed era stato richiesto a gran voce dagli agricoltori di tutto l'Abruzzo e in particolare da ben 60 sindaci del Chietino, preoccupati dai voraci branchi di ungulati che oramai sono arrivati, immortalati da foto che hanno fatto il giro del web, anche in riva al mare e che devastano le coltivazioni fino a pochi anni fa risparmiate dalle loro scorribande. Al nostro microfono il sindaco di Rocca Scalegna, Domenico Giangiordano. Questa è una battaglia che come sapete l'abbiamo iniziata da settembre perché quest'anno abbiamo avuto dei casi anche mortali di incidenti sui cinghiali. Dopo varie battaglie con il prefetto siamo stati accolti dall'assessore il quale ci ha riunito in tavoli tecnici dove noi abbiamo portato le nostre proposte. Noi viviamo i territori, sappiamo quali danni stanno creando questi cinghiali sia alle colture sia proprio all'incolumità fisica delle persone. Immaginate che le persone hanno paura di uscire la sera a farsi la passeggiata. Resta però una forte divergenza su chi deve fare i piani di abbattimento annuali. Il progetto di legge licenziato in terza commissione agricoltura prevede che a farli deve essere la regione che ha assunto tale compito dalle province in via di ridimensionamento di delega e personale. Il centrodestra sostiene invece che i piani di abbattimento debbano essere invece affidati ai 12 ambiti territoriali di caccia, organismi associativi composti dagli stessi cacciatori dei rispettivi territori che si occupano di gestione della fauna selvatica e di programmazione dell'attività venatoria.